Allo stato attuale ad Agropoli risultano 34 positivi, 24 guariti e un nuovo positivo. E' iniziato anche lo screening per i residenti e i domiciliati che potranno effettuare gratuitamente il tampone in piazza Risorgimento. L'ASD ha informato appunto il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, di un nuovo caso di positività al Covid-19, si tratta di un concittadino che nulla ha a che fare con le precedenti situazioni. Come di consueto si lavora per ricostruire la catena dei contatti, ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook. Prosegue intanto il monitoraggio delle aree sensibili. Nel weekend la polizia municipale, su mia disposizione, continua il sindaco, è intervenuta presso il porto dove è affermato una persona poco più che ventenne, il quale all'invito degli operatori si rifiutava di indossare la mascherina protettiva. Chiesto il supporto di una nuova pattuglia, nell'immediatezza sul posto è giunto il comandante Sergio Cauceglia che ha richiesto l'ausilio di un'ulteriore pattuglia. Nonostante il ripetuto richiamo al rispetto delle prescrizioni anti-Covid-19, il soggetto, oltre a continuare ad avere un atteggiamento di rifiuto di indossare il dispositivo di protezione individuale, ha iniziato ad offendere e minacciare gli operanti. Per i fatti consumati il soggetto è stato deferito all'autorità giudiziaria per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Inoltre c'è stata anche una situazione di intemperanza in Piazza della Repubblica. Sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che hanno provveduto ad identificare i protagonisti per lo più minorenni. E ancora sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti che verranno vagliate se ce ne fossero i presupposti. Si procederà al deferimento presso il Tribunale dei minori. Ancora un'operazione della Polizia Municipale, infatti, ha proceduto a disporre sempre nel weekend la chiusura del chiosco presente presso il porto, in quanto qui si erano create situazioni di assembramento. Ci tengo a sottolineare, conclude il Sindaco, che proseguiremo con il pugno duro contro chi non osserva le prescrizioni dettate dall'emergenza sanitaria in atto e saremo decisi ed irreprensibili ancora più contro chi non porta rispetto nei confronti dei tutori della legge.